Alla Sanità Veneta ne mancano 1.300, in Italia ne mancano 56.000. È stata sbagliata tutta la programmazione e oggi abbiamo come risultato che molte professionalità mediche non ci sono e quindi abbiamo difficoltà in molti reparti. Parte da questo dato Luca Zaia per dire che alla Sanità Veneta mancano ancora medici, nonostante l'emergenza Covid abbia favorito nuove assunzioni, da qui l'appello ai giovani all'inizio dell'anno scolastico. Io dico andate, se vi piace, se riterrete opportuno fare medicina andateci perché non sarete di certo disoccupati. E se si parla di sanità inevitabile guardare all'evoluzione del contagio che per Zaia è comunque sotto controllo se si considera la percentuale crescente di asintomatici. In generale penso che non bisogna abbassare la guardia senza alarmismi perché il 94% dei positivi non sono sintomatici, perché questo è il dato di fatto. E in questo contesto si muove il dibattito ormai infinito sulla mascherina in classe. Noi abbiamo assistito a qualcosa di raccapricciante, visto e considerato che sulla partita della scuola ancora tutt'oggi non si è ben capito se la mascherina ci vuole o non ci vuole. Noi siamo dalla parte di quelli che dicono che ai bimbi non va messa la mascherina. L'altro fronte sono i cluster aziendali, attualmente concentrati soprattutto nel Trevigiano, che qualcosa in questi casi non abbia funzionato, lo dice lo stesso governatore. Il fatto che ci siano cluster aziendali è la dimostrazione che magari non ci sono state protezioni, non ci sono state, non lo dico a livello aziendale, magari non ci sono state attenzioni nella vita privata. Certo è che se uno porta la mascherina, lo dico sempre, i nostri medici, 11.000 medici degli ospedali del Veneto che hanno lavorato con il virus, vivo, cattivo, sono infettati per l'1,8%. Insomma la questione è matematica, mentre c'è poco di matematico nel cosiddetto negazionismo. A differenza di tutti gli altri cittadini che possono dire quello che pensano, possono dire che il virus non esiste, che il virus esiste, lo possono dire, io no. Io ho l'obbligo di applicare la legge che mi dice che se un cittadino sia male per colpa mia, perché non ho applicato la legge, sono io responsabile. Della serie, se tu vuoi dirla tua, lo puoi dire in tribuna sui spalti del campo da calcio. Se sei a bordo campo, sai che si gioca in 11 e si gioca con delle regole.